Dal vertice di Arcore arriva un ultimatum al governo e a Napolitano, impensabile che Berlusconi decada, scrivendo un comunicato al vicepremiere Alfano. Il PDL mostra di essere compatto e pronta alla guerra e ha un voto anticipato, nonostante la minaccia di Napolitano di dimettersi. È finita, il governo cadrà, esulta la Santanchè, che però stila in un'intervista la lista delle colombe del partito, suscitando l'ira di Schifani e Cicchitto, che replica, non era questo il momento di fare l'elenco di buoni, cattivi e mediocri del partito. Torna a Roma più determinato, no all'autolesionismo, così Enrico Letta dall'Afghanistan dove oggi era in visita al nostro contingente militare. Già ieri il premier aveva respinto l'ultimatum del PDL, anche Mario Monti lo invita ad andare avanti e a non cedere ai diktat. Impensabile che non si rispetti la legge e non si rispettino le sentenze, la risposta del PD, sempre orientato a votare per la decadenza di Berlusconi da senatore. In questo clima spuntano ora molti interrogativi sui provvedimenti che il governo ha in agenda, a cominciare da quelli in programma nel CDM di domani riguardo i tagli alla spesa della pubblica amministrazione e l'assunzione dei dipendenti pubblici con il contratto in scadenza. Poi mercoledì ci sarà l'atteso e forse decisivo confronto sull'Imu, altro nodo da sciogliere, quello della riforma elettorale con la strana alleanza Grillo-Lega che chiedono di votare subito con il porcello. Gli Stati Uniti pronti all'intervento militare contro la Siria, il Pentagono aspetta solo il via libera di Obama, Londra e Parigi sulla stessa linea, mentre la cancelliera Merkel frena e punta sulla via diplomatica. Medici senza frontiere conferma che il regime ha usato gas e nervino contro i civili causando centinaia di vittime. L'Iran avverte gli Stati Uniti, ci saranno dure conseguenze se oltrepasserete la linea rossa. Nella prima uscita di campionato la Juventus parte con il piede giusto, superata a Marassi la Sampdoria con una rete dell'argentivo Tevez. Scivola in partenza invece il Milan che si fa rimontare a Verona da una doppietta dell'inossidabile Luca Toni. Per Balotelli solo applausi ironici del pubblico veronese. Stasera le altre partite con gli esordi di Benitez, Mazzari e Garcia sulle panchine di Napoli, Inter e Roma. All'Olimpico Lazio-Udinese. Dunque una buona giornata e una buona domenica dal telegiornale della Sette. Quella che sembra a tutti gli effetti una domenica di resa dei conti, almeno ad analizzare quello che è l'esito del lungo vertice di ieri in casa PDL. Lo ricorderete, questa è una settimana che abbiamo iniziato con quel messaggio postato su Facebook dallo stesso Silvio Berlusconi. Non mollo, resto il leader del centrodestra, giorni passati con uno scontro, almeno a parole, sempre più serrato tra PD e PDL, su quell'atteggiamento da tenere in giunta sulla decadenza politica di Silvio Berlusconi da senatore. Una decadenza a questo punto senza mezzi termini, definita inaccettabile dal PDL. Non che questo vertice non abbia lasciato anche in casa PDL, lo si sta vivendo in questi minuti, qualche strascico lo scontro, almeno così si ipotizzava nelle mura di Arcore tra Falchi e Colombi. Quindi una linea più intransigente da parte del partito di Silvio Berlusconi, che andrà forse a non salvare neanche le larghe intese, o una linea più attendista. In questo senso lo scontro si rivolge anche al partito, ma su tutto. Come è giusto ha prevalso, almeno per il momento, la linea del leader, di quel Silvio Berlusconi, che a questo punto deve capire come uscire da questa situazione. Da una parte si è parlato delle varie ipotesi sul tavolo, la possibilità di puntare comunque a uno slittamento di quel voto, lo ricordiamo, fissato a partire dal 9 settembre sulla sua decadenza da senatore in giunta, ma poi ci sono altre questioni, questioni che riguardano la politica governativa, e chissà che proprio su quelle non si consumi lo strappo. Un vertice lungo oltre 5 ore per ribadire, ancora una volta, quella che sembra la certezza granitica sulla quale il leader del PDL non è intenzionato a cedere di un millimetro. La decadenza di Berlusconi dalla carica di senatore è impensabile e costituzionalmente inaccettabile. Ha recitato il segretario del PDL, nonché vicepremier Angelino Alfano, al termine dell'incontro ad Arcore, che ha riunito vertici del PDL, legali e figli. Parole dure che lasciano ben poche possibilità alla sopravvivenza del governo di Larga Intese. I falchi del partito dunque sono riusciti a convincere il Cavaliere che con la moderazione non otterrà nulla né dal Quirinale né dal governo, tantomeno dal PD. Del resto lo stesso Berlusconi viene descritto come in piena sintonia con l'ala dura, infuriato e deluso, soprattutto con Napolitano. Sono due anni che faccio il responsabile e in cambio non ho ottenuto nulla. Lo sfogo del Cavaliere, che all'ipotesi che in caso di crisi di governo il capo dello Stato si dimetta, avrebbe commentato si dimetta pure. Una linea intransigente, alla fine sposata anche dai più moderati, che comunque non hanno intenzione di chiudere definitivamente la porta del dialogo. Insomma, ancora una volta, tenteranno di mediare per trovare una soluzione all'agibilità politica del Cavaliere e scongiurare l'irreparabile. Prima che la Giunta del Senato si pronunci sulla decadenza dal senatore di Berlusconi. Noi ci auguriamo che ci sia un esame non frettoloso, che si misuri con le delegatissime questioni costituzionali che stanno in campo, fino al limite ad andare di fronte alla Corte. I falchi però mettono fretta e vorrebbero far saltare il banco prima del 9 settembre, prima cioè che la Giunta inizi la discussione. L'occasione si potrebbe presentare già il prossimo mercoledì, quando in Consiglio dei Ministri si dovrà decidere se abolire totalmente l'IMU su prima casa e terreni agricoli. Altro punto di rimente per il PDL. Sarebbe un ottimo pretesto per mandare tutto all'aria. Ma anche nel PDL le divisioni restano. Oggi, dalle pagine di Repubblica, Daniela Santanchè esulta per il risultato raggiunto. Finalmente è finita. Il governo Letta cadrà, dice, mentre punta il dito contro i suoi colleghi più moderati. Le Colombe hanno ceduto. Non ci sono alternative alla crisi perché gli altri hanno deciso di negare l'agibilità politica. Un leader votato da milioni di italiani, dichiara Santanchè. Cicchitto, Schifani, Quagliariello, Lupi fanno a gara nel dire che si può mediare, ma sbagliano. Alfano, conclude, ha capito che aria tirava e si è subito allineato. È il più furbo di tutti. Dura la replica di Renato Schifani. È molto grave dividere il PDL in buoni e cattivi in chi è sempre e comunque con il leader Silvio Berlusconi e chi manifesta dubbi e perplessità sulla strada da percorrere. Attacca il capogruppo al Senato. Violare il consueto e sano riservo sulle riunioni di partito facendo credere all'opinione pubblica invece che ci siano stati vincitori e vinti non è solo falso, ma adesso a sconcerto sul piano politico e delle relazioni personali. Ecco dicevamo lo strappo e le distanze tra PD e PDL quel che in casa PDL è definito inaccettabile nei termini scelti dallo stesso Alfano in casa PD invece è inevitabile è un mantra che si ripete da giorni e giorni il principio della legalità, nessun baratto due piani distinti tra destino di Silvio Berlusconi e quello del governo delle larghe intese una linea che è sempre più sottile ma che comunque continua a tracciare Ricoletta con ancora più determinazione, con la sua moderazione e con quella volontà espressa chiaramente di non disperdere il lavoro del governo dell'argentese fin qui. Ultimatum e minacce sono inaccettabili la dura nota del PDL firmata dal suo vice a Palazzo Chigi Alfano non cambia la linea del premier Ricoletta è volato in Afghanistan per una visita lampo al contingente italiano e per un incontro con il presidente Karzai prima di partire un gelido colloquio con Alfano in cui ha ribadito che il governo deve restare fuori da questioni che non riguardano che i piani devono restare separati se rottura sarà la responsabilità del collasso dell'Italia ricadrà solo su Berlusconi e sul PDL avrebbe detto il premier un messaggio chiaro, ribadito prima di lasciare Kabul torno a Roma con più determinazione di quando sono partito affinché l'autolesionismo non sia il sentimento con cui si racconta l'Italia inutile aggiungere che l'autolesionismo di cui parla è quello del PDL se davvero farà saltare le larghe intese dal PD la risposta al nuovo ultimatum di Arcore è netta possiamo comprendere il travaglio che sta affrontando il PDL ma non è pensabile che si possano eludere le leggi e non rispettare le sentenze dice a nome del partito il responsabile dell'organizzazione Davide Zoggia ci auguriamo che il PDL trovi la forza di scindere le questioni giudiziarie dall'azione che il governo sta portando avanti per il bene del paese dal PD il messaggio è netto è in perfetta sintonia con quello del Premier il cerino della crisi è in mano al solo PDL che ha più a cuore le sorti del suo leader che quelle del paese ma a tutti è chiaro che la situazione sta precipitando forse qualche spiraglio minimo ci potrebbe essere nei tempi della giunta del Senato magari venendo incontro alle richieste di approfondimenti sulla legge Severino nel frattempo si riaprono i giochi congressuali con Matteo Renzi sempre più in rampa di lancio nell'attesa che torni a parlare il sindaco raccoglie l'endorsement dei due storici rivali in Casa Democratica Massimo D'Alema e Walter Veltroni il primo conferma di fatto le frasi riportate due giorni fa dal Fatto Quotidiano indicando in Renzi il leader con le maggiori possibilità di successo nella prossima sfida per Palazzo Chigi e confermando sia pure e ammorbidendolo il giudizio su Enrico Letta come leader transitorio Veltroni sostiene Renzi ma considera Letta una risorsa preziosa in futuro dice devono convivere magari uno come Premier e l'altro come Ministro dell'Economia dunque si muove il PD sul solco della linea dura scelta da Silvio Berlusconi ma si muovono anche le forze che sono chiaramente all'opposizione quindi da una parte c'è il Movimento 5 Stelle che chiede a più riprese il ritorno alle urne c'è anche la Lega Nord che scalpita per tutti però resta un nodo irrisolto ormai è chiaro e quello della legge elettorale resta irrisolto anche per chi ne aveva fatto un puntello in campagna elettorale ma il governo in questo momento francamente lo vedo messo molto male l'unica risposta sono le elezioni subito io l'ultima carta me la giocherei in termini di alleanze me la giocherei col PDL me la giocherei col PD me la giocherei anche con Grillo se dovesse servire abbronzato sul palco della Bergham Fest al fianco di un bossi pallido in tutti i sensi lasciati alle spalle il litigio preestivo con l'ex capo il tombolone sulla Chiang Calderoli leggi lega alle idee chiare se cade eletta nessun altro governo è possibile e alle elezioni bisogna andare subito tra il dire e il fare c'è di mezzo la legge elettorale che porta la sua firma e la sua auto a Biura il Porcellum è il nodo gordiano che frena gli istinti dei molti che considerano il voto inevitabile la sua riforma prima di ogni ipotesi di elezioni è imprescindibile per Napolitano battaglia da sempre del Movimento 5 Stelle dopo la presa di posizioni di Grillo andiamo al voto poi il Porcellum lo cambiamo noi dal Movimento affiorano i primi distingo andare a votare col Porcellum è una cosa che va contro tutto quello che abbiamo sempre detto in campagna elettorale dice il senatore pentastellato Lorenzo Battista in un'intervista al messaggero spero che quella di Beppe sia una provocazione dal blog del leader ammonisce Paolo Becchi il professore molto ascoltato dei 5 Stelle e non c'è più tempo scrive siamo allo stallo questa cozzaglia di partiti non è riuscita negli ultimi 8 anni a cambiare questa legge elettorale dovrebbero mettersi d'accordo ora? forse sì così almeno pensano D'Alema e Veltroni il primo lancia l'idea di una maggioranza alternativa almeno per cambiare la legge elettorale una prospettiva difficilissima ammette ma è doveroso provarci chi ci starà su questa linea? c'è già chi parla di strane alleanze la roadmap dei tempi la suggerisce l'ex segretario del PD Veltroni oggi intervistato da Repubblica subito legge elettorale e poi all'inizio del prossimo anno il voto e adesso misurando quella distanza che ormai appare inevitabile misurando le aspettative da una parte del PD quanto invece effettivamente si può fare anche solo ottenere un rinvio sul voto in giunta per la decadenza di Berlusconi ecco che in questa distanza si misurano i prezzi che pagherà il governo dell'argentese che sono prezzi legati a quel che si dovrà fare o si doveva fare ci sono scogli importanti come sapete lunedì domani si ritorna a parlare di pubblica amministrazione ma poi c'è un nodo ben più difficile da sciogliere che quello dell'Imu ci si era provato prima della pausa estiva si ripartirà da lì nella giornata di mercoledì basta misurare le parole di Brunetta di pochi istanti fa che dice non arrivi saccomanni in quell'occasione con un prendere o lasciare perché non sarebbe ricevibile l'impegno domenicale dei tecnici del ministero dell'economia è tutto nella ricerca dell'ultimo miliardo fondamentale per arrivare al consiglio dei ministri di mercolì 28 con tutte le coperture necessarie a deliberare l'abolizione dell'Imu non solo il definitivo accantonamento della prima rata sospesa giugno ma anche la cancellazione della rata di dicembre e il conseguente alleggerimento della nuova service tax lo chiede a gran voce il PDL e ormai anche gli esponenti di governo del PD sembrano essere d'accordo ieri il ministro dello sviluppo Zanonato ha chiarito che sull'Imu la volontà è totale che il governo rispetterà gli impegni e lo farà a partire da mercoledì proprio così perché la riunione di mercoledì con il passare delle ore si trasforma sempre più in uno spartiacque per il destino dell'esecutivo dopo il vertice di Arcore il PDL è deciso a respingere qualsiasi soluzione di compromesso ieri lo ha spiegato Angelino Alfano oggi lo ha ribadito il presidente della commissione finanze della Camera Daniele Capezzone le ipotesi di restyling della tassa sulla prima casa e quelle di un rinvio del problema alla legge di stabilità sono state tutte bocciate dal centrodestra che è pronto a far saltare il banco se dovessero essere riproposte nel consiglio dei ministri di mercoledì dall'altra parte lo hanno compreso bene quindi per evitare una rottura su questo tema in queste ore si cerca affannosamente di far quadrare i conti e presentare sul tavolo del consiglio dei ministri la soluzione normativa più idonea a sancire la scomparsa della tassa sulla prima casa dalle indiscrezioni trapelate dal ministero dell'economia sarebbero già in cassaforte i 2,4 miliardi per la definitiva cancellazione della rata sospesa a giugno un altro miliardo arriverà dall'extragettito IVA dopo lo sblocco dei pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese creditrici mancherebbe appunto un altro miliardo e a questo punto il ricorso a nuovi bolli e accise sembra la strada tanto sgradevole quanto inevitabile anche perché le altre priorità dal blocco dell'IVA al rifinanziamento della cassa integrazione in deroga agli esodati si presenteranno a stretto giro sul tavolo del governo che in qualche modo e non si sa bene con quali risorse dovrà farvi fronte già domani però il governo affronterà un primo banco di prova con il consiglio dei ministri che dovrà dare il via libera definitivo al pacchetto di provvedimenti sulla pubblica amministrazione venerdì c'era stato un rinvio tecnico a questo punto però l'ok non sembra affatto scontato dunque ecco qui il paradosso di fermarsi proprio a questo punto l'ha sottolineato a più riprese Enrico Letta anche con provvedimenti su cui si lavora da più tempo avrete sentito parlare di quel pacchetto di provvedimenti di semplificazioni normative destinazione Italia dunque non respingere investimenti stranieri ma facilitarli con tempi certi e meno burocrazia anche questo lavoro che fine farà? Mai più un caso come quello dell'IKEA a Pisa dove la multinazionale svedese per aprire ha dovuto aspettare oltre sei anni tra permessi burocrazia e scartoffie ma è più un caso British Gas che a marzo ha gettato la spugna rinunciando a costruire un rigassificatore a Brindisi a 11 anni dalla presentazione del progetto un investimento da 800 milioni di euro sepolto sotto una mole di eterne autorizzazioni nel mondo globalizzato le singole nazioni devono fare una sfrenata corte alle multinazionali per invogliarle ad aprire stabilimenti e l'Italia si comporta da amante reticente svogliata che il più delle volte fa perdere la pazienza agli investitori e in malo modo chissà se riuscirà a farle cambiare atteggiamento il progetto sul quale in queste settimane sta lavorando il governo il cui nome racchiude già il programma destinazione Italia a lavoro c'è una task force della Farnesina del Ministero dello Sviluppo Economico e di Palazzo Chigi ancora qualche settimana per mettere a fuoco le idee poi a settembre una consultazione pubblica e a ottobre i decreti quattro le linee guida di questo progetto che ahimè sono anche le spine nel fianco non solo degli investitori esteri ma anche dei nostri imprenditori fisco credito burocrazia e giustizia sottotitolo attrarre semplificare agevolare invogliare si parte dagli incentivi per attrarre il cosiddetto capitale di rischio i venture capitalist e i business angel gente che rischia in proprio ingenti somme in progetti promettenti ad alto potenziale le famose start up c'è poi da scavare le corsie preferenziali per le autorizzazioni con la possibilità per il presidente del consiglio di autorizzare in caso gli enti locali siano lenti o reticenti nel dare semaforo verde ai progetti c'è poi da fornire una guida sicura per chi si deve avventurare nella giungla del fisco italiano da qui l'idea di creare delle corsie preferenziali presso l'agenzia delle entrate per le imprese che hanno scelto il nostro paese che investono solo se hanno certezze sulla stabilità legislativa e spesso proprio dalla giustizia dalle sue lungaggini arrivano le sorprese più sgradevoli magari in materia di ricorsi per questo potrebbe essere utile identificare nei tribunali di Milano Roma e Napoli delle sezioni specifiche per le controversie che riguardino imprese estere veniamo al conflitto siriano sempre in primo piano con i tempi della diplomazia internazionale che si stringono e naturalmente tutti gli occhi sono puntati alle decisioni che arrivano dagli Stati Uniti una decisione nelle mani del presidente Obama che però ormai sembra chiaro vuole agire su un chiaro mandato dell'ONU e c'è anche un'Europa che si interroga e si divide sulla gestione di un conflitto una soluzione più o meno politica c'è chi si muove invece in termini di minacce in caso di attacco dell'Iran occhio per occhio anzi parola per parola usa esattamente gli stessi termini usati da Obama l'anno scorso contro Assad il vice capo di stato maggiore delle forze armate iraniane per lanciare la sua minaccia contro un eventuale intervento occidentale in Siria se gli Stati Uniti attraverseranno la linea rossa dice infatti Massoud e gli Asaieri ci saranno pesanti conseguenze perché aggiunge l'attuale guerra terroristica in Siria è stata progettata dagli Stati Uniti e dai paesi reazionari della regione contro il fronte della resistenza contro Israele parole dure molto dirette come sempre abituato a fare il regime di Teheran ma questa volta suonano in maniera più sinistra anche perché la famigerata linea rossa non sembra così distante il presidente Obama sta ancora valutando un'eventuale risposta militare in Siria ma non sembra escluderla a priori anzi in caso di necessità il Pentagono è già pronto ad attuare le opzioni militari ha infatti confermato in modo molto diretto il segretario della difesa americano Agel in vista a queste ore a Kuala Lumpur deve solo partire l'ordine dice certo non è dato sapere se si tratti di guerra di muscoli come spesso accade nelle questioni medio orientali o di reale strategia politica quel che è certo è che si è già formato un asse molto forte tra Stati Uniti e Gran Bretagna proprio come fu nel caso dell'attacco all'Iraq il presidente Obama e il premier Cameron dopo un colloquio telefonico di oltre mezz'ora hanno infatti lanciato un appello comune alla comunità internazionale affinché dia una risposta seria all'attacco chimico sferrato secondo l'accusa dal regime siriano di Assad tutto sta a capire come si declini il concetto di serio anche perché contemporaneamente continua il lavoro sotterraneo della diplomazia il segretario di Stato americano Kerry ha parlato lungamente al telefono con il correga siriano ha chiesto spiegazioni sul presunto attacco con armi chimiche ma soprattutto ha chiesto che gli ispettori internazionali possano accedere in modo immediato e senza ostacoli al sito vicino Damasco in cui sarebbe avvenuto l'attacco e l'ipotesi almeno per ora e almeno a parole da parte del regime siriano non è stata esclusa è un pensiero al dramma del conflitto siriano che entra nel terzo anno con quel numero relativo ai profughi e bambini di un milione che ha fatto fermare con l'attenzione un po' a tutti noi arrivato questa mattina anche dal pontefice dell'Angelus che ascoltiamo in un suo passaggio faccio appello alla comunità internazionale perché si mostri più sensibile verso questa tragica situazione perché si fermi il rumore delle armi non è lo scontro che offre prospettive di speranza per risolvere i problemi ma è la capacità di incontro e di dialogo dal profondo del mio cuore vorrei manifestare la mia vicinanza con la preghiera e la solidarietà a tutte le vittime di questo conflitto a tutti coloro che soffrono specialmente i bambini e invitare a tenere sempre accessa la speranza di pace parla di pace di incontro e dialogo Papa Francesco ma naturalmente dall'altra parte ci sono già le persone che stanno studiando un eventuale attacco e dunque dicevamo si guarda agli Stati Uniti con quell'arco di opzioni che è stato valutato ieri da Obama e che resta sul tavolo della Casa Bianca bisogna in qualche modo pesare quelle che sono le indicazioni arrivate dal Consiglio di Sicurezza Nazionale ma anche l'eventuale più o meno atteggiamento collaborativo dei paesi medi orientali coinvolti eventualmente gli Stati Uniti mobilitano le forze armate e potenziano la presenza navale nel Mediterraneo quattro navi da guerra sono sulla rotta di Damasco pronte a far partire se è necessario un attacco contro il regime di Bashar al-Assad sono diverse le opzioni messe sul tavolo nel Consiglio di Sicurezza Nazionale riunito ieri alla Casa Bianca il modello è un'azione militare a fini umanitari sotto l'egida della Nato come avvenne in Kosovo nel 1999 lo scenario numero uno è quello di un attacco via mare le navi inviate davanti alle coste siriane sono le più sofisticate tra quelle in dotazione alla Marina Americana ognuna è equipaggiata con almeno 90 missili Tomahawk in grado di colpire a distanza e con estrema precisione i bunker le batterie di artiglieria e i posti di comando dell'esercito di Damasco questa sarebbe l'opzione operativamente più immediata scenario numero due una no-fly zone alle forze di Assad verrebbe impedito l'uso di aeree elicotteri e missili che sono i principali vettori di armi chimiche come accadde in Libia nel 2011 il che vorrebbe dire giocoforza abbattere qualsiasi velivolo si alzasse dal territorio siriano il regime attualmente disporrebbe ancora di 100 150 jet da combattimento un altro scenario che per il momento non trascinerebbe direttamente la comunità internazionale in un conflitto che rischia di destabilizzare tutta l'area prevede un incremento degli aiuti militari ai ribelli e del loro addestramento senza dimenticare che milizie jihadiste di al-Qaeda stanno prendendo piede nel paese approfittando proprio delle rivolte anti-Assad domani si riuniranno in Giordania i capi di Stato Maggiore di diversi paesi di Nato e lega araba coinvolti nella crisi siriana Italia compresa questa riunione si svolge su invito del capo di Stato Maggiore Giordano e del numero uno del comando americano responsabile del Medio Oriente e dell'Asia centrale era già stata programmata da tempo ma è probabile se non certo che i generali discuteranno proprio degli scenari e delle possibili conseguenze nella regione di un attacco in caso di no-fly zone ad esempio gli Stati Uniti dovrebbero appoggiarsi alle basi aeree a loro concesse in Giordania e Turchia e se Assad dovesse optare per una rappresaglia questi due paesi sarebbero i primi a finire nel mirino il vicino Libano dove ci sono oltre mille soldati italiani sotto comando ONU potrebbe sprofondare nel caos allora andiamo adesso al campionato di calcio in pratica si riparte dove c'eravamo lasciati con una Juventus che non si batte ha cambiato un solo uomo Tevez è già stato decisivo non si può dire la stessa cosa dell'inizio del Milan oggi tutte le altre bicche dopo 90 minuti di gioco abbiamo avuto la conferma che ci sono due certezze indissolubili nel calcio italiano una è l'imbecillità di quelli che allo stadio vanno principalmente per prendersela col prossimo è successo ieri sia a Verona che a Genova l'altra è che la Juventus di Conte è sempre la stessa forte, unita pronta al sacrificio registrata nei minimi meccanismi Ammarassi contro la Sampdoria i bianconeri presentavano solo una novità rispetto allo scorso anno Carlos Tevez ebbene l'argentino ex Manchester City si è inserito talmente bene da diventare subito il terminale della manovra bianconera nell'occasione del bellissimo gol partita una Juve dunque che riprende il discorso da dove l'aveva interrotto un Milan invece che stecca all'esordio sul campo di un Verona determinato e ben assemblato da mandorlini e soprattutto con un attaccante come Luca Toni che a 36 anni sembra aver ritrovato lo smalto di un tempo una prestazione da incorniciare che ha consentito al Verona di rimontare il bel gol milanista firmato da Poli su assist di Balotelli Toni di testa in due occasioni ha punito la difesa rosso-nera davvero vulnerabile e lo stesso Allegri a fine gara l'ho indicato come esempio per intensità abnegazione ed efficacia sotto porta un messaggio ai suoi giocatori deluso Balotelli deluso Balotelli che sempre via Twitter ha fatto i complimenti alla Verona ai calciatori ha specificato oggi intanto altri sette incontri della prima giornata si comincia con la nuova Inter di Mazzarri che affronta il Genoa penso e spero che tutti sono coscienti che comunque si sta partendo quasi da zero perché si riapre un ciclo ci sono tanti ragazzi giovani si è ringiovanita la società è normale che in questi casi l'unica cosa che può dire un addetto a lavori che si considera serio che ci vuole un po' di tempo e l'attesa è molta per quella che dovrebbe essere l'antagonista principale per la Juventus il Napoli di Rafa Belitez che al San Paolo riceve il Bologna ho visto come ho allenato la squadra ho visto l'atteggiamento di questi giocatori ho visto il sforzo che ha fatto la società per andare avanti e sento la passione delle tifosi possiamo vincere sicuro e non manca la curiosità nemmeno per la nuova Roma di Rudy Garcia impegnata a Livorno il tecnico francese da quando è arrivato ha perso Marquinhos Osvaldo e ora sta per perdere anche la mela l'argentino oggi andrà in panchina sarà l'ultima apparizione in giallo-rosso per il giovane talento in partenza per Londra destinazione Tottenham con questo ci fermiamo pubblicità torniamo con gli aggiornamenti tra poco dunque di nuovo insieme 30 secondi dopo le 14 tutti gli aggiornamenti come sempre ve lo ricordo sul nostro sito internet per rimanere informati adesso vi lascio la pagina di TG Cronache e poi vi ricordo l'informazione che torna col telegiornale alle 20 grazie per averci seguito e buona domenica